Un autore di un classico, ci parli di quest'opera? Sì, questa è una delle commedie secondo me più belle di Arthur Miller perché sicuramente sotto la sua radice politica in effetti tratta più dell'animo umano che neanche del discorso politico in sé stessa voglio dire oggi noi troviamo che l'americanizzazione che lui tanto abborriva sia anche in tutto il mondo e quindi è straordinaria questa cosa che questo modello americano negativo del business oggi noi ce lo troviamo in casa a me è piaciuto il soggetto proprio per questo per ricordare un po' alla gente che si fa troppo business e per fare business si passa sopra ogni sentimento che sia il padre, la madre, non importa l'importante è il business questo per quanto riguarda la validità del testo e quando invece riguarda il problema della recitazione a me piace molto questo testo perché ha l'esigenza di una recitazione naturalistica e noi ci siamo, almeno la mia compaglia si è specializzata in questa recitazione naturalistica per cui ci troviamo molto a nostro agio a rifitare testi moderni o comunque naturalisti da l'altro effetto in poi piuttosto che il testo che va declamato con voce, condizione eccetera infatti ho visto che la gente ha seguito benissimo proprio le battute familiari, le battute della quotidianità che ha sottolineato a volte con sorrisi e a volte anche con emozione